Adesso basta, adesso basta, mi sono rotto, veramente basta, 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 basta. Diciamo che, devo dire la verità, oggi l'ho presa normale, cioè l'Inter ha perso, ho fatto così, cioè, e sono completamente, non dico fregato, però c'è, così, non ci sto a perdere la testa, ormai ho capito qui come va, la società è il taxi, il presidente, che non si sa dove cazzo mai stia, Conte, ma io non so più che pensare, o dove sono, o non ne so, non mi frega niente, io so soltanto che la squadra non gira, bisogna cambiare in difis, al centrocampo e in attacco, per me, l'ho sempre detto, ci vuole uno o due acquisti al reparto, ci vogliono quei 5 o 6 giocatori che mancano all'Inter, l'Inter sopra 22 giocatori ne giocano 12, 13, ma 7 o 8 giocatori, 6 o 7 giocatori vanno dati, ma vi faccio pure l'elenco, quasi 7 giocatori, Ranocchia, vengo là, Eriksen, alla fine, diciamo anche Lautaro, Cagliardini, Tanti nomi, Tanti nomi, Sinceramente anche Akini, è una delusione, Ma se vi devo fare un elenco, Porta, vabbè, Lasciamo stare, va bene, Skrini, Devraia e Bastoni, un trio che mi va bene, Poi, D'Ambrosio, Sta cagando, Kolarov, C'è il covid, Ma, Non è che sia una grande perdita, Ranocchia, Sappiamo tutti com'è, Sui esterni, Esterni è la cosa che sta mancando di più, Conte, Moa, Darmiano lo fa più giocare, Pericic si sta riprendendo, E, Sono molto fiducio su Pericic, Ma, Young, Inesistente, Irriconoscibile, L'anno scorso, E Akimi, Che sembrava, Quando è arrivato, Sembrava un extraterrestre, Sta cagando, C'è, Akimi Young, Delusioni, Delusione, Grandissima delusione, Vidal, Vidal, C'è, Co, Puntini, Puntini, Probabilmente, Sia questo il titolo, Perché, È un ragazzo forte, Pieno di, Di grinta, Di, Ci mette sempre il cuore, Ma, Si deve, Calmare, Deve mettere la testa, A posto, Deve mettere il capo, A posto, Perché, È un giocatore, Troppo polemico, E soprattutto, Usa, Dei modi, Troppo, Irruenti, Come le sue giocate, Quando, Va, Tu avversari, In modo irruente, Quando parla, Con una persona irruente, È, Un, È una testa calda, Ecco, E oggi, Si è preso il rosso, Real Madrid, Dopo una cazzata, Di barella, Pure tu, Barea, Ti fai a fare, Le cazzate, Rigore, Trasformato, Da asalto, Espulsione, Per l'Inter, Di Vidal, Noi giochiamo in 10, Ci cambia, Tutta la partita, Perché, A mio parere, Potevamo pure vincere, In 11, Secondo tempo, Questa, 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 In Bucadì, tanto che qui c'è da fare qualcosa, e noi tifosi non ci meritiamo tutto questo, ecco perché ho detto basta, all'Inter la seguo perché la mia squadra è tifo, la seguo, ci credo, ma quando perde non me ne frega, niente, la prendo male, sicuramente come tutti i tifosi, ma non ci sto di ore a pensare, basta, 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 che cambiate, meglio, ci sono cambiate, cazzi vostri, voti, ok, sarò severissimo, credo che sei severissimo, andandoci sei, vabbè, andandoci, devrai sei, bastoni sei, do sei e mezzo a screnia perché l'ho visto molto bravo, Hakimi, quattro e mezzo, basta, basta, Young, quattro e mezzo, basta, basta, Vidal, quattro, basta, basta, Gliardini, cinque e mezzo, vabbè, Barella, cinque e mezzo, anche tu, Lautaro, cinque, oggi purtroppo devo dare anche il cinque e mezzo a Lukaku, ah, mi perdono, poi i vuoi che sono entrati in campo, sei e mezzo per Sanchez, e diciamo un sette per Perisic, che probabilmente è il migliore in campo dell'Inter, perché ha fatto quello che doveva fare, Sensi, sei, quando è entrato, è N'Engolan Eriksen, cioè Eriksen e D'Ambrosio, cinque e mezzo, Eriksen senza voto, Basta, mi sono rotto dai palazzi, basta, entri a parlare, problemi, cose, sconte, abbiamo capito che secondo me tu te ne vuoi andare, non hai più la greta di l'anno scorso, ormai non te ne frega più un cazzo, abbiamo capito tutti quanti, vediamo sabato che cosa combinano, cosa so, ce la vogliamo.